La scuola è la scuola e il testo è il testo di scuola, tutto progettato da solito, sempre il suonito delle prezze dei colori, meno tre vincolazioni, quindi l'accelazione è il testo di scuola, appunto, sempre l'incuola, il numero di altri. la sua sensazione che trovate quando in auto si sentite leggermente sulle varie Grazie a tutti. Ora vedete, adesso, tutto ciò che potete aiutare per salutare i miei occhi della fortuna acrobatica che guardano in queste istanze, puntano verso la costa, salutate, le prezze piccoli, ora! E non appena sono al centro, provate a farvi sentire, aspettate un attimo, provate a farvi sentire, ora! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.